in questo video vi presento una stecca o un pacchetto di maxi miliardario che ha un valore di 300 euro che contiene 15 bigliettini e una singola biglietto che ha un valore di 20 euro e ora vediamo se con questo biglietto ho vinto qualcosa come vedete l'ho gratto senza controllarlo perché adesso come sapete o non lo sapete abbiamo già un'applicazione per controllare con questo codice in fondo guardate con questa applicazione possiamo verificare se abbiamo vinto ecco basta il biglietto risulta che non è vincente purtroppo ora passiamo a questo stecca o un pacchetto di maxi miliardario vediamo se questa volta finalmente sono fortunata speriamo il primo biglietto iniziamo a grattare per scoprire se qualcosa c'è ora come vedete non lo controllo perché alla fine ricontrolliamo con l'applicazione e ora controlliamo e questa volta ancora risulta il biglietto non è vincente passiamo al nostro secondo biglietto e vediamo Ciao ancora questa volta risolta il biglietto non è vincente ma ora passiamo subito al nostro terzo biglietto sperando che questa volta vinciamo qualcosina ancora questa volta non ho vinto niente perciò passiamo subito al nostro quarto biglietto pregando di vincere qualcosa vediamo un po' e speriamo bene neanche questo risulta vincente ora passiamo al nostro quinto biglietto e 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 questo è vincente come prima e 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 neanche questo è vincente e ora passiamo al nostro nono biglietto vediamo che almeno questa volta si vinca qualcosa ora vediamo biglietto non è vincente ora passiamo al nostro decimo biglietto vedete che siamo quasi alla fine anche questo non è vincente quindi usciamo già al nostro undicesimo biglietto e e e e e e e e biglietto non è vincente e ora passiamo al nostro dodicesimo biglietto e e e e come come vedete il biglietto non è vincente e subito subito siamo già al nostro tredicesimo biglietto e 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 meno male anche questa volta qualcosina ho vinto e ora passiamo subito al nostro quattordicesimo biglietto sarebbe sarebbe il nostro penultimo biglietto della giornata e ora non vedo l'ora avanti che si vede che non sto recuperando niente di 300 euro di un pacchetto o ne stecca di gratta e vinci, quindi passiamo al nostro quindicesimo biglietto della giornata sperando che almeno questo ultimo biglietto mi dà una vincita che mi può permettere di recuperare oppure vincere qualcosina ora controlliamo subito vediamo, purtroppo il biglietto risulta non è vincente ripassiamo tutti i biglietti grattati prima e sperando che magari qualcosina mi ha sfuggito qualche vincita mi ha sfuggito quindi controlliamo per bene uno per uno sì veramente 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 avete seguito questo video già lo sapete quanto ho vinto oppure quanto ho perso di questi biglietti che ha un valore in totale 320 euro ora già sapete se ho recuperato oppure ho perso quindi se sapete la risposta potete commentare qui sotto e se vi piace questo video potete mettere like se volete bene spero che vi piaccia e buona continuazione e visione a tutti per il mio prossimo video grazie a tutti alla prossima ciao 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.